Avete mai sentito parlare di esperienze premorte, di quelle luci accecanti, tunnel infiniti, incontri con persone care già defunte? Sono fenomeni che affascinano e interrogano da sempre l'umanità, sollevando domande profonde sulla natura della coscienza, dell'anima e dell'esistenza dopo la morte? In questo video ci immergeremo nel mistero delle esperienze premorte, esplorando le testimonianze di chi ha vissuto questi eventi straordinari. Ma cosa c'è di vero in queste storie? Sono semplici allucinazioni generate da un cervello in via di spegnimento o rappresentano forse la prova di un'altra dimensione, di un'anima che sopravvive al corpo? Cosa dice la scienza a riguardo? La scienza ancora oggi non ha una spiegazione definitiva per questi fenomeni straordinari, comunemente chiamati NDE. Tuttavia una recente scoperta sta gettando nuova luce su questo enigma, anche se ogni risposta apre la porta a nuove domande ancora più sorprendenti. Ma è come sempre andiamo con ordine. Iniziamo con il caso di NDE più celebre e inspiegabile al mondo, quello di Pam Reynolds. La sua esperienza condivide molti elementi comuni con altri NDE e proprio attraverso il suo racconto cercheremo di svelare gli intricati segreti di ciò che accade al confine tra vita e morte. Quindi mi raccomando seguite questo video fino in fondo perché vi prometto che ne sentirete davvero delle belle e come sempre, anche stavolta, vi farò vedere un sogno, letteralmente. Pam Reynolds ha riferito al suo medico che accusava sintomi di vertigini, perdita della parola e difficoltà nel muovere parti del corpo. Gli esami rivelarono che aveva un grande aneurisma nel cervello, vicino al tronco encefalico. A causa della difficile posizione della aneurisma, si prevedeva che Reynolds non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivere all'intervento chirurgico per la sua rimozione. Come ultima risorsa, Robert F. Spetzler, un neurochirurgo del Barrow Neurological Institute di Phoenix in Arizona, decise di tentare una rara procedura in cui si abbassa la temperatura del corpo fino a 10 gradi, si interrompe il battito cardiaco e si fa defluire il sangue dalla testa. I suoi occhi erano chiusi con del nastro adesivo e nelle sue orecchie erano inseriti piccoli tappi con altoparlanti. Questi altoparlanti emettevano clic udibili che venivano utilizzati per controllare la funzione del tronco encefalico in modo da assicurarsi che avesse un'elettroencefalografia piatta che indicava un cervello non reattivo prima che l'operazione procedesse. L'operazione ebbe successo e Reynolds si riprese completamente. Ma quello che Pam riferì essere successo, nelle quasi sette ore di intervento, ha dell'incredibile. Reynolds ha riferito che durante l'operazione ha sentito un suono simile a un re naturale che sembrava tirarla fuori dal corpo e le ha permesso di galleggiare sopra la sala operatoria e guardare i medici eseguire l'operazione. Reynolds afferma che durante questo periodo si sentiva più consapevole del normale e la sua vista era più focalizzata e più chiara della visione normale. Ha riferito di aver visto la sega chirurgica ma ha detto che sembrava uno spazzolino elettrico e questo in effetti è vero. Ha detto che poteva sentire le conversazioni tra il personale della sala operatoria riportandole in modo esatto anche se aveva gli auricolari nelle orecchie che emettevano un forte clic a 95 decibel molte volte al secondo per monitorare la sua funzione cerebrale. Era impossibile che potesse sentire qualcosa e ricordiamo inoltre che il suo elettroencefalogramma era piatto. Ha descritto attrezzi della sala operatoria che non aveva mai visto riportando in modo esatto anche la loro posizione. Ha descritto tutta l'operazione comprese le varie complicazioni sopraggiunte. Ad un certo punto dell'operazione racconta di aver notato una presenza e di essere stata trascinata verso una luce. Dice di aver iniziato a discernere delle figure nella luce tra a cui sua nonna, uno zio, altri parenti defunti e persone a lei sconosciute. Secondo Reynolds più tempo rimaneva lì, più si divertiva. Ma a un certo punto le venne in mente che doveva tornare indietro. Dice che suo zio l'ha riportata nel suo corpo ma lei non voleva andare quindi l'ha spinta dentro e la sensazione era come quella di saltare nell'acqua ghiacciata. Spesso si cerca di spiegare le esperienze di premorte come informazioni acquisite da altre persone prima e dopo l'evento. Ma il caso di Pam Reynolds sfida questa ipotesi. La sua esperienza è stata esaminata a fondo da esperti internazionali, diventando un punto di riferimento per comprendere questi fenomeni. Due scettici di spicco, Susan Blackmore e Gerald Worley, hanno proposto ipotesi alternative. Blackmore sostiene che le NDE siano il risultato di una reazione emergente durante l'anestesia, mentre Worley ipotizza che Pam abbia percepito le conversazioni dei chirurghi tramite vibrazioni sonore trasmesse attraverso i supporti metallici che sorreggevano il cranio. L'esperienza di Pam si è verificata durante l'intervento, ben tre ore dopo l'inizio dell'anestesia, escludendo l'ipotesi di Blackmore. Inoltre, la descrizione dettagliata di strumenti chirurgici mai visti prima esclude la teoria di Worley, oltre al fatto che la sua tesi delle vibrazioni è come minimo assurda e non supportata da verifiche scientifiche. Il dottor Spetzler, il neurochirurgo che ha operato Pam, ammette la mancanza di spiegazioni scientifiche per la sua NDE. La precisione dei suoi ricordi, avvenuti durante un'operazione di sei ore, rimane un mistero. Pam ha anche riferito la canzone che stavano ascoltando i medici poco prima di riattivare il suo cuore. Era Hotel California degli Eagles. Bene, questo è il caso più famoso e più controverso, ma ce ne sono migliaia in tutto il mondo. La cosa curiosa è che tutti più o meno riferiscono le stesse cose. Persone che non si conoscono, che abitano ai lati opposti del globo, riferiscono sempre del tunnel di luce, della vista dall'alto dei medici, dei parenti, insomma qualcosa ci deve essere per forza. Ma qual è il denominatore comune? Cosa dice la scienza al riguardo? Quali sono le attuali teorie che provano a dare una parvenza di spiegazione a questo fenomeno? Vediamo. Esistono diverse teorie che cercano di spiegare questi fenomeni complessi, ma nessuna di esse è stata universalmente accettata. Alcune delle principali teorie includono spiegazione neurologica. La teoria più diffusa suggerisce che le NDE siano causate da attività cerebrali anomale che si verificano durante o subito dopo un arresto cardiaco o un altro evento che mette in pericolo la vita. Queste attività anomale potrebbero causare allucinazioni, sensazioni di distacco dal corpo e altri sintomi tipici delle NDE. Spiegazione psicologica. Un'altra teoria propone che le NDE siano una sorta di esperienza psicologica influenzata da fattori come stress, aspettative culturali e credenze personali. Secondo questa teoria, le persone che hanno NDE potrebbero semplicemente rivivere memorie, desideri o paure inconsci. Spiegazione spirituale. Alcuni credono che le NDE siano prove dell'esistenza di un'anima o di un'aldilà. Secondo questa teoria, la coscienza potrebbe sopravvivere al corpo fisico e le NDE potrebbero rappresentare un assaggio di un'altra dimensione o realtà. La spiegazione psicologica non ci dice come mai ci sia così tanta somiglianza tra tutte le varie esperienze vissute da migliaia di persone a quattro angoli della Terra, mentre la spiegazione spirituale è troppo facile, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Non ci rimane che la spiegazione neurologica. Ci sono stati vari studi in merito che hanno approfondito sempre più l'argomento fino a scoprire qualcosa di eccezionale. Quindi ecco la domanda delle domande. Che cosa succede al nostro cervello quando moriamo? Già dal 2013, in questo studio dell'Università del Michigan, ci si era accorti che nei topi, durante il periodo che passa tra la morte clinica e la morte cerebrale, il cervello registra un picco di attività molto intensa di onde gamma. Subito si è pensato che questa fosse la prova dell'esistenza di un'anima che abbandona la carne. In fondo siamo di fronte ad un paradosso scientifico in cui dopo la morte un cervello continua ancora a dare segnali, e non segnali qualunque. Le onde gamma del cervello, a differenza di tutti gli altri tipi come ad esempio le onde teta, delta, alfa eccetera, sono proprio le onde associate alle attività più rapide come intuizione, memoria, attenzione e coscienza. Il passo successivo ovviamente è capire se la stessa cosa succede anche al cervello umano. La risposta è sì, anche se a onor del vero non succede proprio a tutti. Ci sono stati casi in cui il cervello non ha dato segni di vita, ma in tutti gli altri numerosi casi invece sì. E la scienza oggi è disposta a mettere nero su bianco, su documenti ufficiali, che qualcosa succede in un cervello umano che si trova in totale stato di ipossia e che ha già interrotto ogni attività, in pratica morto. Detto in parole più semplici, nello studio citato ad esempio, ma anche in molti altri studi successivi, la scienza registra un'esplosione di coscienza, non solo in punto di morte, ma anche per un breve periodo successivo ad essa. Ipersemplificando, vita dopo la morte. Ma cosa significa questo? Potremmo davvero aver scientificamente registrato il comportamento della coscienza o dell'anima che, come suggerito in un vecchio studio desegretato della CIA, ritorna ad uno stato assoluto nel tessuto spazio temporale? Oppure siamo di fronte ad un estremo tentativo del cervello di fare qualcosa per salvare la situazione? Non lo sappiamo, la scienza CI va molto cauta in merito, però rimane un enorme problema attualmente non risolto. Se non avessimo le incredibili testimonianze delle esperienze premorte, sarebbe molto più facile giustificare questo fenomeno, come ad esempio attività residuale elettrica, dei tessuti neurali, attività quantistiche, fenomeni residuali, dei neuroni, eccetera. Tutte teorie ad oggi valide ma non ancora verificate. Ma per quanto si cerchi siamo lontani da spiegare come sia possibile che tutte queste persone possano riferire conversazioni che non potevano sentire, possano riferire di oggetti e situazioni che non potevano vedere o in nessun modo conoscere. Forse siamo di fronte ad un potere cerebrale che ancora non conosciamo, forse questi casi estremi di sofferenza riescono a scatenare una capacità del cervello ancora sconosciuta, una capacità che permette di staccare l'anima dal corpo e di osservare e forse interagire con l'ambiente circostante. Questo potrebbe spiegare i misteriosi fenomeni legati alle apparizioni dei fantasmi. Lascio a voi la risposta. Tutto da verificare ovviamente, ma non dobbiamo commettere l'errore di presumere di essere già a conoscenza di tutto. Le NDE risalgono alla notte dei tempi, non sono certo un fenomeno moderno. Questo dimostra e rafforza la motivazione ad andare a fondo su questo mistero. Ma almeno oggi la scienza ha fatto un importante passo in avanti, osservando e documentando qualcosa che però non riesce a spiegare. C'è un'ultima versione della faccenda che personalmente a me piace più di tutte, ma ammetto che è solo la mia interpretazione ovviamente. Allora, io pur non escludendo l'esistenza di un'anima, credo che il nostro meraviglioso cervello si renda ovviamente conto della situazione del corpo, della morte che sta arrivando, quindi della morte imminente, che come reazione faccia un ultimo sforzo per renderci il trapasso più piacevole possibile. Questo lo può fare ricordandoci i nostri cari, i nostri figli, le belle situazioni e cinondi di una sensazione di benessere, una sensazione di pace, di piacere che riesca in qualche modo a sopraffare l'enorme dolore. Questo oltretutto coincide anche con i racconti delle persone che hanno sperimentato un episodio di NDE. Finalmente siamo arrivati al punto in cui ti faccio vedere la mia versione di un'esperienza NDE. La gente arcano, come saprai, è soprattutto un canale di simulazioni, quindi non potevo certo mancare all'appuntamento, specie in un tema così delicato. Ecco quindi che cosa potrebbe vedere una persona sul punto di morte, ma che cosa potrebbe portarla anche indietro. Prima di salutarti, se questo video ti è piaciuto e ti piace questo canale, mi farebbe davvero piacere se decidessi di iscriverti, di lasciare un like oppure un commento, o se vuoi anche una donazione, dandomi così una mano a trovare il modo di dedicarmi a tempo pieno a questo bellissimo progetto, così da poter pubblicare maggiori video, oltre che più accurati e più spettacolari. Comunque vada io, ti ringrazio per aver visto il video fino a qui e quindi ti lascio alla mia visione dell'esperienza NDE. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.